Il Presidente, avete visto, ha ricevuto degli applausi prima che finisse il discorso, una cosa del genere è capitata solo nel 48 Frank Sinatra. Adesso, siccome questa sede è strutturata su due parti, una parte ovviamente che riguarda la società, una parte invece che riguarda l'aspetto tecnico, io chiamerei Franco Colombo perché potrà ovviamente usufruire la squadra, la squadra potrebbe dire, ve l'ho detto prima, per i lunghi ritiri, la voglia che siamo brevissimi, perché quando ci sono i lunghi ritiri potete dire che le cose non vanno a mille, no? Sì, infatti, a volte si fanno anche quando le cose vanno bene, se sono i proprietari su primo risultato o per momenti così, di cose positive. Niente, io ho allenato da tante parti e, devo dire, spesso e volentieri mi sono trovato ad allenare squadra, non avevamo neanche il campo di allenamento, ma anche in città importante, non c'è bisogno di andare a scomulare proprio la provincia. Quindi, il fatto di essere in un posto dove una delle cose più importanti è quella di migliorare la logistica, come ha detto Cesare, è una cosa fondamentale. Io ringrazio, faccio i complimenti al Presidente, faccio i complimenti al Direttore per questa idea. il direttore sportivo, ovviamente, che aiuta in maniera determinante. E ora la parola tocca anche a noi, come ha detto il Presidente, che i miei ragazzi sono responsabili, anche loro, di poter mettere a frutto questa volontà e questa voglia della società, per dare soddisfazione a tutti i tifosi del periodo di tutta la città. Va bene? Grazie. Grazie.